Premere il pulsante Avvia trasmissione sul pannello di controllo di GoToWebinar in modo da poter essere uditi da tutti i partecipanti. Si riceverà una notifica dal sistema quando si inizierà la trasmissione. A questo punto inizia la trasmissione. Tutti i partecipanti sono in grado solo di ascoltare. Ecco qua, se mi riuscite a sentire di nuovo, non so che cosa è successo, forse problemi a nevicate o problemi al... non so a che cosa. Comunque ricominciamo dall'inizio. Commodities Live. Ari, buonasera. Perfetto Massimo, grazie. Allora, Commodities Live. Vi ricomincio un po' dall'inizio per quanto riguarda sempre i contatti in pochioccio a chissanziuffa.com Ovviamente il disclaimer per chi magari anche si è collegato al volo nel frattempo c'è sempre l'avviso sulle zone di responsabilità nel webilang. Tutto quello che viene detto non è qualsiasi investimento ma è solo in ambiente demo e finalità educative. XTB non si assume responsabilità all'utilizzo di questi dati. Il tuo capitale è a rischio ma XTB ha il sistema di protezione del capitale quindi non potete andare al di sotto del vostro capitale. Benissimo, vi ricomincio dall'inizio. Allora, innanzitutto, quindi, riconnettiamo la XTB mentre vi faccio un po' il sulto alle situazioni. Allora, abbiamo detto, per quanto riguarda il caffè, abbiamo detto questa situazione laterale con un bellissimo rally che ha avuto nel 2010 dopodiché comunque è crollato ma è crollato in maniera laterale quindi significa anche che nel momento in cui abbiamo visto il ecco qui è arrivata la piattaforma nel mentre abbiamo visto il rally andare in basso aspettate che vi metto anche la penna così vedete meglio questo rally che è al ribasso vedete questa zona qui che ha ritestato i minimi comunque di periodo ritestando anche questa neckline questa qui è una neckline del triangolo discendente quindi, cosa voglio dire io? Nel momento in cui si ha questa situazione con compressione dei prezzi vedete come i prezzi comprimono sempre di più andiamo ad avere che cosa, infine? Potremmo avere non si vede nulla allora aspettate che vi metto vi ricondivido lo schermo vediamo se adesso dovreste vedere tutto adesso vi rimetto la penna ecco vediamo un po' ditemi un po' perfetto ok allora Massimo guarda per quanto riguarda ti ringrazio dell'esito ok allora questo qui è quindi il grafico vedete questo siamo arrivati nel deli dopo nel del 2015 siamo arrivati a questo punto qui di Massimo sui 177 il prezzo è crollato che cosa ha fatto però? è andato in compressione quindi ha dato i prezzi sono andati al ribasso ma a un certo punto vedete da questa zona qui i prezzi hanno diciamo lateralizzato questo che cosa ci va a preannunciare? prima di tutto prima di tutto vi faccio una view anche sul 4 ore perché è importante andare a vedere questo ecco questa compressione da vicino vedete questi livelli qui non sono stati ma i più poi diciamo sono stati ritestati quindi siamo in una zona in questo momento di semilateralità quindi significa che cosa? che più si va avanti più i prezzi vedete coinprimono ma stanno all'interno sempre tra i 134 e 20 e quest'altra soglia praticamente dei 117 e 78 sul medio periodo cosa significa questo? che sicuramente visto che questo è un triangolo diciamo è più una wedge più che altro perché se io vado a fare meglio questo facciamolo a breve termine vi faccio vedere una cosa se io vi faccio vedere qui questa situazione qui non contando ovviamente anche lo scusate aspettate ecco qui vi faccio vedere subito con la trendline vedete come i prezzi sembrano quasi è quasi una wedge quindi comunque possono ovviamente la wedge può essere come un triangolo può essere anche di continuazione ma in questo caso potrebbe visto che questo prezzi qui questa zona qui è stata un punto dove è difficile che i prezzi ritornano e diciamo breccano e quindi rompono questa zona qui di di supporto magari ci potrebbe essere che cosa nel breve periodo un ritorno dove un ritorno in questa zona qui ok perché io dico questa zona perché se voi vedete bene ve lo disegno anzi ve lo disegno come un rettangolo così almeno vedete meglio questa zona qui è una zona di dove i prezzi comunque sono andati sempre a testare e a vedete e sono andate a scendere poi hanno messo diciamo le loro piccole radici in quel momento in questo momento e poi è ricaduto giù quindi è una zona oltre che comunque una oltre il supporto il supporto al 134 che è stato veramente veramente anche nel passato è stato ritestato più volte ma io vi voglio far vedere proprio questa zona di resistenza scusate questa resistenza al 134 è una zona di resistenza perché io la inquadro come zona perché in analisi tecnica comunque sia voi ben sapete che le resistenze sono anche possono essere appunto non proprio una linea ma anche proprio una zona vedete che questa zona che ho rimpicciolito leggermente perché ci sono questi spike qui e anche queste zone di massimo vedete come è veramente una zona dove porre l'attenzione quindi che cosa io mi potrei aspettare da una rottura verso l'altro prima di tutto un ritorno ai 134 diciamo tra i 100 diciamo 32 e 134 ma se andiamo a vedere fibonacci perché magari andiamo a vedere questo movimento di breve che c'è stato vedete se io vado a mettere fibonacci in questa zona qui vedete che il 100 il punto 127 quindi dal punto 100 al 127 diciamo questa zona qui vedete come è una zona anche questa di confluenza di prezzo perché se io vado a prendere guardate bene io vado a prendere aspettate che mi tolgo ecco perché se no non mi va a spostare bene il quadro se io vado a prendere questa zona aspettate ecco qui ok mi vado a prendere questa zona qui e vado a fare una confluenza anche da qui a qui eccolo qua quindi vedete come il 50% è sta in confluenza forte con il 100 quindi quali sono i punti diciamo da tenere sott'occhio se viene esforato il 134 eccolo qua vedete quindi sicuramente io mi aspetto un'azione al rialzo del 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 caffè staremo a vedere poi nei prossimi giorni comunque cosa ci possiamo aspettare andiamo a vedere prima di tutto il grano perché voglio far vedere il grano perché andiamo a vedere prima a livello deli vedete che c'è stato un un picco negli ultimi tempi cioè nel 2017 io ho fatto anche un articolo su investing ma poi se andate a vedere anche il mio sito www.prichistanciutto.com che io do sempre qualche spunto sul blog vedete come questo picco qui è stato il picco quando c'è stato quella sorta di riunione di tutte quante le associazioni di coltivatori che ha avuto appunto questo picco e poi è ritornato nei nel range quello di tuttora quello che vediamo come zona di lateralità che poi io metterei come zona anche questa eccola qui dei 478 ultimamente però che cosa ha fatto questa il prezzo del grano è andato ecco qua vi metto anche il minimo di questa zona che c'è stata che cosa ha fatto ha breccato la zona questa questa diciamo resistenza i 478 e si è andata a incanalare su questo prezzo che io vi avevo messo come prezzo di attenzione svariate volte fa già l'ho messo qui il rettangolo già l'avevo messo qui addirittura come soglia ed attenzione non sta a parte che il 161 qui tra il 161 e il 141 è una zona anche ritestata dal prezzo vedete qui ma poi vedete qui c'è stato anche un gap quindi zona molto forte cosa è successo c'è stato questo rally ultime notizie proprio perché perché sapete che l'Italia è stata dichiarata addirittura sta addirittura dietro il Canada che è il maggiore esportatore di grano vedete come c'è stato ultimamente proprio per la richiesta di produzione per per il frumento in generale ma vedete anche questo rialzo questo escursus che si è avuto proprio per notizie macroeconomiche che cosa mi aspetto vedete bene il ciclo di mercato però attenzione attenzione bene a questo se ho capito che questa è una zona di prezzo mettiamola qui dei eccolo qui il prezzo dei 500 soglia psicologica ma se vediamo qui l'onde che ci sono ovviamente se avete domande eccetera potete farmeli in qualsiasi momento se vediamo l'onda guarda ve la faccio una piccola analisi ciclica vedete che qui è prima seconda terza quarta quinta cosa vedete qui che siamo in un fine ciclo dove il punto 4 cioè il 460 460 dollari diciamo 458 dollari 84 è una zona ecco qua ve lo disegno sempre col mio solito rettangolo ormai mi conoscete bene io quando vado a fare una zona di supporto resistenza ve la faccio sempre in questo modo come qui poi il punto 4 è esattamente praticamente ritestato il punto 1 ecco quel punto 5 cosa mi aspetto da qui ovviamente mi aspetto sicuramente un ritorno fatto in questo modo a ritestare magari la zona del 4 ok quindi io mi aspetterei un ritorno comunque sui 478 sui breve termine quindi perché perché siamo in un fine ciclo quindi sul fine ciclo io mi aspetto sempre un ritorno del dal 5 al punto a b c quindi a un punto di di soglia che 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 comunque mi va a ritornare allora 3 a ribasso sì esatto perché 3 a ribasso perché l'analyse sicilia ve la faccio perché ecco questa piattaforma veramente ha proprio questo questo modus operandi di cui ci sono vedete dopo il punto 5 Elliot ci insegna che cosa che si ha dei punti a b e c quindi io mi posso aspettare un ritorno a magari a b a ritestare magari il 127 e c a ritestare magari il punto 4 non è detto ovviamente che sta sul punto 4 ma perché perché ricordiamoci sempre che io ho sempre una soglia di prezzo che è questa poi vedete i minimi qui i minimi qui che sono stati toccati vedete sul 61% quindi ho sempre questa soglia qui quindi magari io mi aspetterei un ritorno in questa zona qui ok quindi sì io mi aspetto questo ritorno perché ha un fine ciclo dopo di che voi mi potete dire sì vabbè ma Elliot ci insegna anche che può esserci anche una lateralizzazione certo ci può essere anche una lateralizzazione ma sicuramente e ve lo ridisegno con la penna aspetta vi faccio un colore magari rosso scusate aspettate ve lo disegno in rosso così almeno ecco qui sicuramente sarà qui dentro se devo diciamo avere una lateralizzazione su breve termine ok bene questo è quello che riguarda il web vi do questo diciamo non è è un'analisi ovviamente puramente di Cristian Ciuffa ma comunque io vado sempre a leggere il mercato come lo leggo io e come molte volte io ai miei corsisti del trading master course che faccio quotidianamente e comunque annualmente giorno per giorno e anno per anno io insegno sempre anche l'analisi ciclica perché è importante saperla perché nel momento in cui ci troviamo una zona come questa molti dicono vabbè allora io vado a rialzo no sbagliatissimo aspettatevi almeno un ritorno sapete il ritorno anche qual è il 60 dal 50 vedete il 50 è il 61% tra il 38 e il 61% di Fibonacci guarda un po' dove va il 38 e il 50 dove vanno in che zona vanno guardate un po' io il rettangolo dove l'ho messo ok quindi questo è comunque per quanto riguarda il grano andiamo a vedere al volo il copper il quindi che comunque sapete bene che è direttamente proporzionale al dollaro perché comunque sappiate che tutto quello che riguarda il copper e l'oro ovviamente chi è direttamente proporzionale chi è inversamente proporzionale ma comunque sapete benissimo che il rame il l'oro lo zinco sono tutti legati comunque si ai paesi delle materie prime quindi ad esempio il dollaro australiano il canadese e il neozelandese ma comunque anche strettamente correlati a quello che fa il dollaro perché io metto sempre e qui mannaggia che non l'ho messo ancora ma ve lo metto subito il USD IDX vi voglio far vedere perché vi metto sempre l'indice del dollaro perché ricordatevi sempre che il dollaro non è nient'altro che una media di tutto quello che sono i il cross con il dollaro quindi è una media di tutte quanti diciamo dei cross che il dollaro a cui il dollaro è legato quindi euro-dollaro che ne so yen-dollaro eccetera vedete che il dollaro sta in una in una situazione di lateralizzazione in questo momento qui ritesta e quindi perché andiamo a vedere proprio questa indecisione del mercato contrariamente magari a un oro che quando c'è una zona di diciamo indecisione il dollaro magari tende a salire nel rame nello zinco nelle materie prime in cui sono strettamente direttamente proporzionate al dollaro si hanno anche queste formazioni di lateralità vedete come per esempio la zona di minimo che è questa sta per essere ritestata vi voglio far vedere anche vedete bene anche il movimento del prezzo che ve lo faccio vedere al volo che ha toccato il 50 esatto il 50% infatti questo è da considerarsi un bellissimo bet pattern e ve lo faccio vedere qui vedete bene ve lo faccio al volo non io quando faccio analisi tecniche a live faccio anche queste cose qui vedete come un probabile bet pattern andrebbe a ritestare che cosa il valore del 78% della gamba diciamo cd del bet pattern proprio il 6833 vedete che è la zona in cui chi vuole mettere magari un'operazione breve termine perché non metterla in questo modo qua perché io che cosa però mi vado ad aspettare poi mi vado ad aspettare questo poi se ci sono domande dite però io mi vado ad aspettare che nel momento in cui il bet pattern mi prende questa soglia di prezzo qui mi va a ritestare il 78% questo è un bet pattern rialzista quindi il prezzo che cosa fa poi mi va a ritornare su e che soglia dove mi potrebbe andare a ritestare questa soglia qui dei 6.950 dollari soglia peraltro badate bene a quello che vi dico soglia peraltro e ve lo segno con una una linea di eccola qui 6.950 6.950 soglia psicologica eccola qui ve la segno come linea di trend scusate come linea statica come resistenza statica eccola qui vedete quindi io che cosa mi aspetto mi aspetto un ritorno intorno a questa soglia di prezzo qui che può essere anche io ve lo segno anche con il rettangolo perché vedete che qui c'è sta quindi io ve lo disegno così ecco leggere il mercato cosa significa vedete ogni segnale deve essere correlato dalla parte vostra la proiezione deve essere ci devono essere più punti dalla vostra parte e questo ce lo dice l'analisi tecnica ragazzi io lo dico tutti i giorni anche ai miei corsisti se andate poi sul mio sito lo vedete in tutto di queste cose qui e anche sul mio canale youtube io vi dico sempre queste più probabilità abbiamo alla nostra parte più operazioni andranno a buon fine adesso che cosa mi aspetto dal mercato che arrivi fino qui per poi ritestare comunque non questa zona di prezzo qui ma questa zona di prezzo qui cioè quale ve la vado a disegnare eccola qui questa zona di prezzo qui prima di magari che cosa fare o magari riscendere o risalire ma io vedendo la situazione diciamo la situazione macroeconomica perché stiamo adesso sull'h1 ma se io vado a vedere la situazione macroeconomica vedete che io che tipo di situazione però ho io ho una situazione di trend a rialzo in questo momento in cui è arrivata questa soglia di prezzo qui che è una soglia importante vedete qui che è che questa è una soglia dove vedete questo rettangolo che vi sto assegnando vedete come questa è una soglia che il mercato ha sentito molto questa zona qui e qui lo sta ritestando di nuovo perché perché c'è questa resistenza questa resistenza qui dei 7200 che il mercato ha sentito moltissime volte ok andiamo a vedere per ultimo adesso voglio far vedere l'oro al volo perché abbiamo sporato un pochettino vi voglio far vedere l'oro al volo che sta ritestando segnali rialzisti comunque sia sta ritestando questa zona qui che io abbiamo messo anche scorse volte di range ritesta questa zona e se voi vedete bene è anche un fine ciclo quindi io che cosa mi aspetto dal dal mercato sicuramente mi aspetterò se andasse a rialzo qui siamo sul deli quindi diciamo su un medio lungo termine intorno a questa zona qui cosa mi aspetto invece dal breve termine sicuramente vedete che i prezzi stanno man mano vedete come questo minimo è più alto di questo quindi stanno se continua stanno magari possono lateralizzare magari comprimendosi intorno a questi pezzi qua per poi esplodere e andare a che fare prima di ritestare il 1365 io mi aspetto che cosa un ritorno in questa magari in questa zona qui sul prezzo eccolo qui magari io che cosa mi posso aspettare aspettate e il brand ah sì adesso ve lo faccio vedere subito ritest su questa zona magari piccolo ritest andando a mettersi ancora su questi massimi e sforarli dopodiché direttamente qui quindi questo diciamo è rialzista ovviamente questo è quello che almeno che se non ci sono dei sul breve termine delle situazioni comunque si vi faccio in mente vedere il VTI al volo eccolo qui che io già vi avevo segnalato quindi sul gold stiamo molto attenti adesso a prossimi fed e prossime anche segnalazioni a livello di macroeconomia il petrolio è adesso oggi dovrebbe esserci anche dal punto di vista anche macroeconomico notizie che ancora vediamo un po' vediamo un po' eccolo qui che stanno i prezzi addirittura vedete come stanno ancora al di sotto delle aspettative è già il valore ma comunque allora oggi è mercoledì eccolo qui allora crude oil vedete che è andato ecco perché sta avendo un un valore in in questo modo perché il valore che è stato ubicato è al di sopra delle aspettative quindi sicuramente riandiamo riandiamo sui grafici sicuramente ecco perché sta avendo questo picco in negativo che comunque in questo momento è trascurabile perché magari ecco chi avesse avuto delle in questo momento delle operazioni a rialzo magari può essere penalizzato sul breve termine però andiamo a vedere il VTI io vi avevo già detto che il VTI avrebbe ritestato questa zona e eccola qui del 61% del movimento del breve termine lo sta ritestando sui 64 dollari è difficile che il prezzo nel breve termine vada al di sopra dei 66 dollari perché è una zona di molto molto importante di prezzo anche perché dopo ci sarebbero i 70 dollari io che cosa mi aspetto dal dal petrolio io varie volte ve l'ho già detto io mi aspetto sicuramente un azione a ribasso almeno sui minimi su questi minimi di breve termine che poi io l'avevo individuati come i 58 dollari io mi aspetto un ritorno anche perché non è ancora un fine ciclo ma il 61% di Fibonacci forte e ricordiamoci la situazione macroeconomica ragazzi perché lo stock dell'america sul loro share oil bisogna vedere le trivillazioni americane che fine fanno quindi io mi aspetto sicuramente un azione a ribasso almeno a ritestare i 58 dollari anche perché non trascuriamo il fatto che i 58 dollari potrebbe anche il prezzo fare e ve lo faccio appena io mi aspetto un'azione fino a qui ritest dei minimi e magari o all'incirca qui magari ritest su queste zone qui magari proprio su questa zona dei 65 dollari per poi ancora magari vedere una piccola altruizzazione quindi io mi aspetto un'azione che io farei è vedere il prezzo fino a qui per poi puntare al rialzo sul breve termine se volete proprio un ritest su questi massimi qui ok quindi io vi faccio questo poi comunque settimana prossima vediamo poi come sono andate anche dalle situazioni macroeconomiche tra USA e Europa e i paesi che comunque sono maggiori esportatori che comunque ricordiamoci OPEC quindi Bari bisogna vedere sempre che cosa decidono i paesi arabi bene ragazzi con questo io tutto vi auguro un buon proseguimento con con la settimana di trading vi faccio rivedere al volo i miei i miei recapiti infochiocciola cristianciuffa punto com salute sì Massimo io vabbè io faccio sempre una una diciamo un'operatività per quelli che sono magari persone che fanno dal breve a lungo termine ma specialmente anche lungo termine perché bisogna sempre vedere un po' tutto quanto il mercato come va info chiocciola cristianciuffa punto com potete andare a vedere anche il mio sito comunque www.christianciuffa punto com il mio blog anche il mio canale youtube andrea di marco chiocciola xd punto punto it la situazione manageriale e anche il mio collega analista che molto addentrato anche sul dax che penso conoscete bene e da xd office chiocciola xd punto it per qualsiasi domanda siamo sempre disponibili vi ringrazio molto per questo webinar buon trading a tutti ciao da cristianciuffa ciao